Presidente, il mare è una cultura, il cibo una cultura, il mondo imprenditoriale, il mondo della produzione e del commercio, com'è vicino a questi mondi? La Camera di Commercio sia di Roma che di un Camera regionale fa un punto di forza nello stare vicino a chi produce su questo territorio e naturalmente delle produzioni di eccellenza sono quelle della Nautica, quindi tutta la filiera della Nautica nel Lazio è molto importante ma importante altrettanto è quello dell'agroalimentare che ci fornisce dei prodotti di grande eccellenza che competono a livello mondiale penso che la produzione di oli, di vini, di ortaggi, di carni bianche su questo territorio ci abbia la possibilità di essere apprezzati non solo da noi che viviamo qui, abbiamo la fortuna di vivere qui ma anche da tutti i turisti che vengono a trovarci e anche da poter essere esportati e venduti sui mercati internazionali possiamo mettere in campo come Camera di Commercio e come sistema del credito con il moltiplicatore che producono possono muovere ben più di 100 milioni e quindi dare un impulso all'imprenditoria giovanile è importante Grazie